Autovelox ancora nell'occhio del ciclone dopo che la scorsa estate aveva tenuto banco la spinosa vicenda dei velox di Cadoneg, record assoluto di multe dopo i mesi in cui Fleximan ha imperversato in tutto il Veneto, ora si passa alle vie legali con l'associazione Uso Improprio degli Autovelox che ha annunciato di aver depositato dai carabinieri una denuncia querela chiedendo alla Procura Generale della Repubblica e alla Procura di Treviso che si proceda penalmente nei confronti dei sindaci di quattro comuni dell'Alta Padovana. attraversati dalla strada regionale 53, si tratta di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta e Carmignano di Brenta dove sono stati installati 12 autovelox in un tratto di 15 km dice l'associazione, una strada che sempre secondo la stessa associazione è ampia e dritta e non pericolosa e dunque percorribile a 70 km orari. I sindaci chiamati in causa si preparano a tutelarsi e non accettano di essere denunciati per aver posizionato strumenti che servono a salvaguardare l'incolumità dei cittadini. I dati parlano chiaro e ci danno ragione, grazie alla presenza di questi tre velox all'interno del nostro territorio lungo la statale SS53 siamo riusciti a dimezzare di oltre il 50% la velocità in questo tratto viario importante. Oltre a questi dispositivi come amministrazione comunale ci siamo impegnati per realizzare due rotatorie che andranno ulteriormente a rallentare il traffico. Noi come ANCI abbiamo scritto la settimana scorsa al ministro dell'infrastruttura, al ministro Salvini, per mettere la parola fine a questo cortocircuito burocratico che di fatto espone i sindaci a queste situazioni sgradevoli dove da una parte ti viene chiesto di spegnere gli autovelox e di mettere in totale insicurezza la nostra comunità dall'altra ci sono i sindaci invece che tengono duro e che a fronte della sicurezza stradale sfidano anche i ricorsi e le denunce. Basta rispettare i limiti per non incorrere nelle multe concordano i primi cittadini difesi appunto anche dallo sindaco di Treviso Mario Conte presidente di ANCI Veneto. Io non me la sento di spegnere tutti gli autovelox, di lasciare via libera a tutti, sono tutti autovelox autorizzati dal ministero, certificati, ovviamente non sono omologati perché non esistono i parametri di omologazione però rispondono a tutti i parametri normativi. Se poi qualcuno vuole speculare e fare campagna di acquisto clienti attraverso questi ricorsi, queste denunce e creando queste associazioni è libero di farlo. La mia coscienza mi chiama però a rispondere alla sicurezza stradale.